Buonasera, ben ritrovati come tutti noi di sera con il calcio su vice azzurra, tipo del Bule Belenzago che ha battuto 3-1 lo Stresa Vergante inguaiando notevolmente la squadra di Cacciatore in servizio relativo al successo appunto di Tigrotti. Torna al successo il Bule Belenzago che batte 3-1 lo Stresa Vergante e si mette alle spalle la brutta prestazione nel recupero con l'alicese Orizzonti per i Boromaici invece notte fonda con una classifica sempre più complicata. Il match prende subito la direzione dei Tigrotti dopo una chance di Cesare al terzo con respinta di Baglieri. All'undicesimo la squadra di Molinaro passa in vantaggio con una sfortunata deviazione nella propria porta di Terrini, emblema di una stagione fino ad oggi disgraziata per lo Stresa Vergante. Nemmeno il tempo di reagire ed è già 2-0. Al ventiquattresimo intervento di Moia su Orlando per il direttore di gara con proteste e ospite il rigore. Calcia lo stesso Orlando, Baglieri intuisce, para ma la palla oltrepassa la linea di porta. Nel primo tempo non succede più nulla di eclatante. La ripresa si apre a sesto con la punizione di Moreo, lo stacco di Poter e il miracolo di Baglieri ad evitare il 3-0. La formazione di cacciatore si scuote e due minuti dopo ci prova. Corner di Geno, Marchionna sfiora di testa, la palla arriva a Secchi che però non inquadra lo specchio. Alla quarta d'ora, Marchionna chiama ancora in causa Valneri che è attento e se la cava. Voleva l'inzago in 10 per la doppia munizione di Scampini, poi addirittura in 9 per il rosso diretto a Pisanello. Finale incredibile. A tre minuti dal termine, Cantadore accorce le distanze e forte della doppia superiorità numerica, lo Stresa Vergante ci crede per davvero. Valneri salva tutto su Secchi, servito da Perini, al primo di recupero e poi in contropiede. La chiude l'alta per il definitivo 3-1 a favore del bule beninzago che torna così a sorridere.